pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati il vangelo di questa domenica viene a dilatare gli spazi del cuore per aiutarci anche a guarire da quella che simpaticamente chiamiamo la sindrome del primo di che si tratta vediamo un po gesù vuol aiutarci a capire come funziona il regno dei cieli cioè come agisce dio nella storia e nel cuore di chi lo accoglie nella parabola abbiamo un padrone che esce a varie ore del giorno e chiama dei disoccupati a lavorare nella sua vigna chiama tutti quelli che incontra di mattina di pomeriggio anche un'ora prima che finisca la giornata accordandosi con loro per ciò che è giusto venuta la sera partendo dagli ultimi da loro il compenso e sorpresa paga a tutti l'intera giornata da a tutti una moneta fermiamoci qui questo è il centro siamo davanti alla bontà di dio alla sua gratuità che supera i nostri meri criteri di giustizia o di proporzionalità infatti notiamo un padrone che non è ingiusto verso i primi a loro paga la giornata semmai è buono anche con gli ultimi perché anche a loro paga la giornata tutto questo simboleggia l'agire di dio che da sempre cerca l'uomo e continuamente nelle varie ore della giornata dunque nelle varie fasi della nostra vita ci chiama ci chiama a lavorare nella sua vigna ci chiama stare con lui ci chiama ad annunciare il vangelo a donarci per la salvezza degli altri sì caro fratello cara sorella dio ti chiama perché ti ama ti chiama ad accoglierlo a seguirlo ti chiama ad un compito particolare qualcosa che solo tu puoi fare ha un sogno d'amore su di te per te vuole il meglio e continuamente delicatamente egli ti chiama e non si rassegna fino all'ultimo bussa al tuo cuore e se gli apriamo il cuore cosa ci dona se stesso il suo amore la sua vita il suo santo spirito in una parola la salvezza ecco cosa rappresenta quella moneta che dà a tutti se lo accogli dio ti dona se stesso dio non può dare meno di se stesso c'è chi lo accoglie prima e chi lo accoglie dopo chi purtroppo non lo accoglie proprio ma pensiamo ad esempio a san pio che sin da piccolino ha amato gesù c'è chi l'ha incontrato in gioventù pensate san francesco d'assisi che inizia il suo cammino di conversione a 25 anni c'è chi l'ha incontrato alla fine last minute il buon ladrone che sulla croce affidandosi a gesù si è sentito dire oggi sarei con me in paradiso bene tutti e tre sono santi tutti e tre hanno accolto il signore tutti e tre hanno accolto questa moneta bellissima che il rapporto con lui quindi miei cari capiamo bene la parabola non vuole dirci che la stessa cosa essere giusti o peccatori né tanto meno che in cielo saremo tutti uguali certo in cielo tutti i beati sono beati ciascuno nella sua misura di quanto ha aperto il cuore al signore questa parabola ci parla di una generosità di una gratuità di dio che viene a dilatare gli spazi del nostro cuore d'altronde chi di noi potrebbe stare davanti a dio se dio non avesse questa bontà chi di noi potrebbe mettersi davanti a dio e dire dammi ciò che mi spetta se dio dovesse misurarci esattamente e dare a ciascuno ciò che davvero merita beh permettetemi di dirlo ma saremmo rovinati come ha detto bene don fabio rosini tutti abbiamo bisogno di un'altra logica che l'ultimo non sia scartato ma sia accolto perché c'è un ultimo in ciascuno di noi ma gesù sa bene che questa generosità di dio questa sua bontà incontra le nostre resistenze soprattutto da parte dei primi di quelli che si sentono già in cammino qual è il loro problema facciamoci caso andiamo avanti con la parabola al vedere e anche agli ultimi il padrone ha dato una moneta inizia il mormorio dei primi che si lamentano col padrone dicendogli questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo ma il padrone rispondendo a uno di loro disse amico io non ti faccio torto non hai forse convenuto con me per un denaro prendi il tuo e vattene ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te non posso fare delle mie cose quel che voglio oppure sei invidioso perché io sono buono i primi non si lamentano perché a loro è stato tolto qualcosa ma perché agli altri è stato dato quanto a loro la loro protesta che apparentemente verte sulla giustizia è in realtà un problema di invidia che brutta bestia miei cari l'invidia è soffrire al vedere il bene degli altri siamo all'opposto della carità che ti porta a gioire per il bene dell'altro a sentirlo come tuo a darti per il bene dell'altro chi sa miei cari forse questi primi quando sono stati chiamati a lavorare hanno gioito gli ha raggiunti una grazia enorme qualcuno che gli ha dato un lavoro che gli ha dato dignità che ha dato un senso alla loro vita che gli ha fatti sentire utili all'inizio sono sicuro avrà prevalso questa gioia ma poi ha iniziato a radicarsi in loro una mentalità meritocratica hanno iniziato a centellinare tutto quel che facevano hanno iniziato a confrontarsi con gli altri fino ad invidiarli capite la sindrome del primo può intaccare tutti ma soprattutto quelli che già si sono incamminati nella fede ora farò qualche esempio semplice per qualcuno forse banale ma almeno rendiamo l'idea una volta una persona che frequentava la chiesa al sapere che un famoso peccatorone e chiese di potersi confessare in punto di morte disse bello così uno nella vita se la spassa fa quello che vuole poi alla fine si converte e si salva e io che da una vita mi sforzo faccio rinunce magari mi perdo pure ecco il ragionamento del primo potremmo dire che l'inferno di chi si sente giusto è vedere dio buono verso gli ingiusti il problema di fondo qual è non essere entrato in questa logica buona misericordiosa di dio e aver vissuto innanzitutto male il proprio rapporto con dio perché pensando alla dimensione anche della parabola no se tu vedi uno che è disoccupato gioisci al sapere che ha trovato un impiego tradotto esistenzialmente se vedi uno smarrito che si sta facendo male e ne sta facendo agli altri che vive da dissoluto senza un senso ultimo o per le quattro cose di questo mondo ma come fai ad invidiarlo se davvero hai fatto esperienza di dio nella tua vita del suo amore ma come fai a non desiderare che lo incontri anche lui se tu hai compreso che vivere il vangelo non è un peso ma un dono che altro è vivere senza la luce di dio altro aver la sua luce nella nostra vita che altro è brancolare qui e lì altro essere guidati dalla sua parole dal suo santo spirito che altro è cercare di colmare i tuoi vuoti con le quattro cose di questo mondo altro è avere in te il suo amore allora non ragionerai così dio non ci può vedere persi non si rassegna e fa di tutto per raggiungerci lui ci vuole salvi e vuole coinvolgere anche noi credenti in questo movimento d'amore darci per la salvezza di tutti ora miei cari dobbiamo fare attenzione perché la sindrome del primo può coglierci anche nella sfera delle relazioni comunitarie faccio solo due esempi sei in parrocchia da molto tempo arriva qualcuno nuovo che inizia un cammino di conversione il parroco lo coinvolge magari gli affida un incarico chissà magari togliendolo proprio a te non sia mai io ci sono da più tempo non è giusto quel compito aspetta a me me lo merito ecco la sindrome del primo che non accetta che l'ultimo sia pari a lui oppure sei sacerdote all'inizio da seminarista sognavi di diventare sacerdote per poter celebrare messa confessare portare gesù alla gente e la gente a gesù poi dopo l'ordinazione pian piano hai perso di vista questo dono immenso di essere strumento di dio suo ministro chiamato ad una unione con formazione particolare al cristo sacerdote e ha iniziato a cercare altre compensazioni una parrocchia più grande un incarico più visibile passano gli anni e il vescovo affida un altro sacerdote più giovane la parrocchia ambita o l'incarico occupato o sognato fuoco e fulmini magari pure lettere anonime non sia mai io ci sono da prima me lo merito io ecco la sindrome del primo che non accetta che l'ultimo sia pari a lui cari fratelli e sorelle in conclusione questa parabola è un bellissimo appello alla conversione agli ultimi ricorda che dio non si stanca di cercarli che vuol donare tutto se stesso anche a loro che li ama come i primi e chiama i primi ad uscire da una vita vissuta nella ristrettezza del merito e della proporzionalità per aprirsi a quello della bontà di quella giustizia più alta di dio che consiste nel suo essere buono verso tutti come un padre che ha pietà dei suoi figli che vuole il bene dei suoi figli e gioisce nel vedere che i suoi figli si vogliono bene e speriamo che tanti possano davvero incontrare il signore anche attraverso di noi preghiamo che tanti anche all'ultimo istante della loro vita possano incontrare il padre il suo amore la moneta della sua misericordia della sua salvezza speriamo di trovare tante persone in paradiso che abbiamo lavorato poco o molto per il signore speriamo di ritrovarci tutti lì anche coloro che in questo momento purtroppo stanno sprecando la loro vita perché incontrandolo possano accogliere la moneta della sua salvezza del suo amore per loro e trovare così in lui il senso pieno e ultimo della loro vita che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti